Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Bomba a San Costanzo, sabato 300 persone dovranno evacuare per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico Alluvione 2014, in arrivo per Senigallia oltre 8 milioni di euro Fano insiste per avere una sede distaccata del CEC Ieri un incontro all'ufficio scolastico regionale Passaggi Festival torna Fano nel mese di giugno Fra gli ospiti lo scrittore Andrea De Carlo Un carnevale da sold out Fano, palchi, tribune, postazioni getto e veglione ufficiale fanno registrare il tutto esaurito Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con la cronaca perché un giardiniere disoccupato di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fano perché coltivava cannabis in casa L'uomo, fermato in piena notte ad un posto di controllo lungo la via Flaminia è stato sorpreso a guidare senza patente sosteneva di averla dimenticata a casa ma in realtà la patente era scaduta da mesi I carabinieri lo hanno accompagnato nella sua abitazione scoprendo così la serra di canapa indiana con tutte le attrezzature Al termine della perquisizione l'ex giardiniere è stato arrestato con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti I carabinieri gli hanno sequestrato 700 grammi di marijuana essiccata e diverse piante germogliate Ora l'uomo è agli arresti domiciliari Cambiamo argomento Saranno quasi 300 gli abitanti di Cerasa di San Costanzo che sabato mattina dovranno abbandonare le loro abitazioni per permettere le operazioni di disinnesco di una bomba rinvenuta in località La Croce Lino Balestra Allora ultime ore dopodiché questa vicenda di questo ritrovamento troverà la sua conclusione Come stanno andando le operazioni? Le operazioni stanno andando molto bene sono iniziate proprio questa mattina sin dalle ore 8 oggi infatti è il 16 febbraio continueranno il giorno 16 e 17 le operazioni propedeutiche diciamo preparatorie quindi alla fase del disinnesco vero e proprio mentre le operazioni di evacuazione e di disinnesco della bomba avverranno sabato mattina cioè il 18 febbraio dalle ore 8 alle ore 14 queste operazioni comporteranno l'evacuazione della popolazione che si trova nel raggio di 600 metri dal cratere della bomba quindi parliamo di circa 294 persone che già ringrazio attraverso questo microfono per la pazienza che naturalmente hanno avuto in questi giorni e per la pazienza che dimostreranno soprattutto nella giornata di sabato per quanto riguarda appunto questa popolazione interessata una parte ha optato per una sistemazione autonoma la restante parte la sistemazione a carico del comune abbiamo allestito un centro di accoglienza in zona Vencareto nella frazione di Solfanuccio quindi in una zona comunque limitrofa rispetto a quella delle abitazioni ovviamente fuori dal raggio di evacuazione e sarà questo lo stesso centro in cui naturalmente verranno poi anche smistati i pasti ci siamo occupati non soltanto dell'evacuazione della popolazione ed in maniera particolare dell'utenza sensibile quindi di bambini, di anziani, di dializzati, infermi eccetera eccetera ma siamo stati particolarmente attenti anche alla tematica animali quindi per quanto riguarda gli animali domestici è stata prevista appunto l'evacuazione anche degli stessi sono state date tutte le indicazioni del caso alla popolazione interessata quindi dal punto di vista delle precauzioni da adottare prima di uscire dalle proprie abitazioni e ribadisco mi raccomando ricordarsi di chiudere tutti i rubinetti di gas di acqua, di luce eccetera eccetera perché questo è fondamentale oltre che una serie di misure per riparare naturalmente cristalli, vetri e quant'altro molto importante è anche il servizio di anticiacallaggio per il quale ringrazio tutte le forze di polizia in genere ricordo che sabato mattina dalle 8 alle 14 la circolazione sarà completamente interdetta lungo tutta appunto la provinciale e anche altresì nelle vie comunali alternative è grandissimo il coinvolgimento di tutte le forze di polizia che ringrazio grandemente perché ci saranno moltissime pattuglie di carabinieri piuttosto che guardia di finanza, polizia, polizia stradale eccetera eccetera quindi un ringraziamento particolare a tutte le forze di polizia alla questura, alla prefettura ecco è un'operazione complessa molto articolata con tanti soggetti che interagiscono tra di loro qual è stata la difficoltà maggiore che avete incontrato nel gestire questa emergenza? allora la difficoltà maggiore è stata quella di conciliare diciamo i plurimi aspetti in questo devo dire anche che la macchina comunale quindi tutti i miei funzionari hanno lavorato davvero in maniera incomiabile ecco la difficoltà è stata quella di andare a ovviamente studiare ed approntare una soluzione specifica per ogni singolo aspetto pensate anche che in questi due giorni 16-17 in cui non c'è evacuazione abbiamo comunque dovuto approntare in un'area in cui non è certamente facile farlo una viabilità completamente alternativa rispetto a questa perché intorno all'area, intorno al cratere sono stati posizionati 80 metri cubi di sabbia con granulometria fine che servirà appunto per riempire i gabbioni che fungeranno da paratia attorno al cratere siamo nel sito che sta per essere allestito per le operazioni di brillatura alle mie spalle ci sono 20 uomini del genio ferrovieri di Castelmaggiore a Bologna adibiti a questa operazione stanno posizionando oltre 100 metri cubi di sabbia nei gabbioni che hanno un lato di 2 metri per 2 metri quindi creano una struttura imponente e tra l'altro ci hanno detto che sono gli stessi che vengono usati anche nelle basi all'estero tipo in Afghanistan per proteggere appunto i compound sono gli stessi in questo momento servono per proteggere gli specialisti che opereranno sulla bomba sono due bombe una è stata già portata via perché non ha la spoletta attiva l'altra ha la spoletta attiva è una bomba da un quintale sono 100 kg di una bomba di aereo di fabbricazione italiana che è stata posizionata qui probabilmente da un esercito in ritirato oppure da uno degli eserciti che erano presenti nello scenario di guerra in quest'area per garantirsi una ritirata in tutta sicurezza a testimonianza di quanto questo crocevia fosse proprio importante è uno snodo importante anche ai tempi di guerra le operazioni si svolgeranno come abbiamo sentito dal sindaco sabato mattina e ci sono buone notizie per Senigallia perché sono in arrivo 8 milioni 500 mila euro come contributi ai privati per il ripristino degli immobili danneggiati dall'alluvione del maggio 2014 la delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata il 20 gennaio scorso definisce la montare spettante a quasi mille beneficiari e l'iter che il Comune e gli istituti di credito aderenti devono seguire in questa ultima fase del procedimento per dare la massima informazione è stata organizzata per lunedì 27 febbraio alle 18 al Teatro La Fenice un'assemblea con tutti i cittadini coinvolti durante la quale saranno illustrati gli adempimenti per riscuotere il contributo al centro operativo di Pesaro invece sono in arrivo ai nuovi mezzi per manutenzioni e emergenze abbiamo investito circa 500 mila euro per macchine più funzionali dicono il sindaco Ricci e l'assessore Belloni si tratta di un'operazione resa possibile grazie alle risorse liberate dallo sblocco del pato di stabilità gli ultimi acquisti fra i quali sei autocarri una motopala un escavatore girevole e un elevatore motorizzato serviranno per l'ordinaria manutenzione nei casi straordinari di protezione civile emergenza ed eventi calamitosi come frane alluvioni e nevicate e adesso torniamo a occuparci del cecchi perché il comune di Fano non si arrende e insiste per avere in città una sede distaccata di questo istituto ieri si è svolto un incontro all'ufficio scolastico regionale allora vediamo com'è andata sede distaccata dell'istituto agrario a Fano il NET dell'istituto scolastico regionale emanazione diretta del MIUR dopo che provincia città interessate organi locali competenti avevano dato il benestare ha lasciato tutti spiazzati e scatenato subito una rida di commenti ultimo dei quali quello di ieri del consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni che aveva dato per questo risultato degli insipienti ai politici locali la burocrazia ci ha messo il suo zampino in tutto questo ed un ligio dirigente non ha fatto altro che applicare una circolare del direttore generale del ministero dell'istruzione università e ricerca che porta la data del 5 dicembre scorso per questo seri e compagni ieri sono volati dal dirigente in questione Marco Ulgo Filisetti per capire se è possibile ottenere una deroga alla circolare in questione purtroppo ancora siamo in una fase interlocutoria ieri abbiamo avuto un lungo incontro io e il sindaco Seri il consigliere regionale Minardi con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale il dottor Filisetti nel quale abbiamo rappresentato non solo le ragioni ma anche diciamo la razio che porta ad aprire nella nostra città il bienio dell'istituto d'agrario Cecchi nei prossimi giorni sarà sicuramente coinvolto anche il ministero perché chiaramente bisogna trovare una soluzione rapida che dia una risposta e delle certezze anche agli studenti e alle loro famiglie e in questo contesto verificheremo anche una serie di perplessità che noi abbiamo rispetto diciamo anche la legittimità del provvedimento dell'ufficio scolastico regionale tenuto conto che c'è una competenza in questo caso specifica delle regioni in campo in campo per questa battaglia anche il vice presidente del consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi che al no sbattuto in faccia a Fano aveva tuonato questa decisione penalizza fortemente Fano che sottolinea inoltre questa circolare non è perentoria ma lascia ampi spazi di interpretazione il consiglio regionale e la giunta regionale sono stati chiari e hanno dato il via libera nella pianificazione scolastica dell'intera regione alla sede di staccata del Cecchia Fano perché ci sono tante motivazioni la prima motivazione è il fatto che è una scuola fortemente attrattiva che ha problemi di edilizia scolastica è l'unica scuola agraria della provincia di Pesaro e Urbino e su questa scelta c'è l'accordo di tutti di tutti a livelli istituzionali il comune di Fano il comune di Pesaro la provincia la regione che ha fatto con decisione questa scelta quindi la decisione è stata chiara nella delibera ha motivato il perché l'ufficio scolastico regionale il direttore ha detto no e quindi noi ovviamente su questo non siamo assolutamente d'accordo l'incontro che abbiamo avuto ieri è stato interlocutorio ci riserviamo ovviamente di fare tutti i nostri passi che sono in molti casi dovuti perché ritengo che questa scelta debba avere attuazione e quindi ci riserviamo di parlare con il ministero so che anche le organizzazioni sindacali in qualche modo sono interessate a questo a questo obiettivo e non può essere che un funzionario metta in discussione una volontà politica e istituzionale che è stata chiara il cecchiafano ora ai soggetti incaricati non rimane altro che fare pressione a livello centrale direttamente al MIUR e se anche questa ambasciata non sortisce alcun effetto non si esclude come ultima razio il ricorso al TAR è ancora cronaca Renato Vagnini un pensionato di 68 anni vedovo e residente a Feniele di Fano si è tolto la vita ieri pomeriggio intorno alle 18.30 sparandosi un colpo di fucile al petto l'uomo è stato trovato riverso a terra nel garage da uno dei due figli sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso il fucile era legalmente detenuto e non sono stati trovati messaggi né biglietti che spiegassero il gesto la salma è stata a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha eseguito un'ispezione cadaverica esterna poi oggi in tarda mattinata è stato dato nulla osta alla famiglia per i funerali si è svolta questa mattina in prefettura una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto per esaminare la situazione nel comune di Vallefoglia dall'incontro è emerso che i reati di maggiore gravità sono diminuiti le rapine sono passate dalle 4 del 2015 ad una soltanto nel corso del 2016 mentre i furti in abitazione si sono ridotti del 22% così come quelli consumati negli esercizi commerciali che hanno evidenziato una riduzione del 21% da questi dati numerici si legge in una nota si è preso atto che la situazione non è particolarmente preoccupante adesso invece vi mostriamo alcune immagini che riguardano un'operazione di recupero avvenuta questa mattina intorno alle 11.30 lungo la Flaminia all'altezza dell'ex fornace Solazzi per il ribaltamento di una macchina movimento terra l'escavatore si è rovesciato durante le operazioni di scarico dal camion che lo trasportava per un errore di manovra dell'operatore e per rimettere il pesante mezzo in carreggiata si è dovuti ricorrere ad una gru di una ditta privata data allora e l'alta intensità del traffico è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani di Fanno per regolare la viabilità e per assistere alle operazioni di pulitura del manto stradale inoltre è sempre un nostro telespettatore ci ha inviato questa fotografia scattata in via Garibaldi ad un cordolo insomma la protezione in pietra per la base degli alberi per mostrare le sue pessime condizioni nonostante la riqualificazione avvenuta di recente in via San Paterniano invece sempre in centro storico di Fanno un nostro reporter di strada ha fotografato due buche che ha definito pericolose cambiamo argomento l'amore al tempo dell'odio sarà il tema della quinta edizione di Passaggi Festival che si svolgerà a Fanno dal 21 al 25 giugno prossimi giugno è ancora lontano da venire ma già si incomincia a parlare di uno degli eventi culturali più importanti di Fanno Passaggi Festival della Saggistica ma la corazzata Potionkin dell'organizzazione è già partita alla grande macchine avanti tutta quindi date location ed ospiti e volontari compresi forza trainante operativa del festival un tema stimolante ed una città che ci si adagia sopra con un'amministrazione che accarezza sempre l'idea che la cultura sia una forza distintiva di Fanno non solo per il passato Romanità e Medioevo ma anche per il presente con proposte artistiche di qualità e turisti appassionati di saggistica per questo festival che vuole diventare grande Passaggi Festival dopo qualche misunderstanding riconfermato presente la città crede in questo evento Quinta edizione è un festival che cresce la città è tutta unita attorno al festival come è stato detto è un festival che unisce la nostra collettività la capacità degli organizzatori di scegliere dei temi che interessano tutti l'anno scorso la felicità possibile quest'anno l'amore al tempo dell'odio che è un bel tema che dà spunti anche alla politica quelli che umilmente si impegnano per migliorare il mondo le cose e quindi penso che ci saranno tanti intellettuali che da vari punti di vista analizzano un tema universale come quello dell'amore ma in particolare in un'epoca che è quella dei muri che si continuano si ricominciano a costruire dei reticolati degli esodi che cos'è la comprensione cos'è la solidarietà cos'è un'idealità superiore per andare avanti sconfiggere la paura ecco questo penso che sia il grande tema di quest'anno poi la grande ricaduta che questo festival come altri festival vincenti ha sul turismo che mi sta a cuore particolarmente è il coinvolgimento dei giovani perché nel grande sforzo di volontariato che è riuscito ad attivare il festival ci sono molti giovani delle scuole che hanno la possibilità di conoscere intellettuali che vedono in tv oppure che non vedono tutti i giorni di frequentare quotidianamente i dibattiti e penso che sia un bel valore aggiunto per la nostra vita collettiva la problematica di fondo però è comune ad ogni manifestazione dalla Sagra del Vincotto all'evento culturale DOC il budget a disposizione il comune di Fano onora il suo impegno mettendo sul piatto i suoi 30.000 euro e la regione ce ne aggiunge 20.000 ma l'obiettivo stimato dall'organizzazione è ben più lontano 150.000 euro cifra già di molto inferiore ci dicono ad eventi nazionali similari che si attestano su quote che vanno dai 350.000 euro in su il gap potrebbe essere colmato dagli sponsor e il tessuto produttivo locale che ha riservato qualche piacevole sorpresa come il raddoppio della quota senza colpo ferire segno di una crescente sensibilità su queste tematiche passaggi festival a Fano diventa una realtà consolidata lo possiamo dire sì dopo l'esplosione della quarta edizione dell'anno scorso in piazza possiamo dire che questo festival è diventato una delle manifestazioni più importanti della città la prossima sarà altrettanto importante quindi presenteremo 14 libri circa ma la cosa che più ci dà soddisfazione è che questo festival viene accolto un po' da tutti seconda questione è che gli amministratori pubblici comune e regione in modo particolare hanno riconfermato la loro presenza anche da un punto di vista dell'impegno finanziario e va sottolineato anche il fatto che da parte degli imprenditori c'è un'attenzione e un cambio di passo se lo voglian dire perché veramente qualcuno ci ha detto che questa iniziativa sul piano culturale direttamente o indirettamente fa bene alla città e quindi fa bene anche alla propria azienda ecco e questo è una grande soddisfazione bocche cucite sul parterre degli ospiti scaramanticamente o a scanso di figuracce Giovanni Belfiore ideatore ed organizzatore del festival non si pronuncia tranne che per un pezzo da 90 Andrea De Carlo che arriverà per una nuova creatura Passaggi Extra un incontro con un autore diverso dalla saggistica che chiuderà il festival l'oratorio parrucchiale e l'incontro di Fenile Di Fano organizza per domani alle ore 19 una proposta educativa per giovani si tratta di un seminario aperto anche ai genitori nella prima parte poi dedicato esclusivamente ai ragazzi durante il quale sarà possibile dialogare con la psicologa e psicoterapeuta Sofia Tavella sull'affettività sull'amore e sulla sessualità cambiamo di nuovo argomento perché i comici del San Costanzo Show questo fine settimana saranno al teatro sperimentale di Pesaro con il nuovo spettacolo intitolato la mezzanotte degli Oscar e l'Oscar io sono uno dei candidati perché io sono un giovane attore si vede anche che film ultimamente ho fatto eravamo quelli dello Zecchino d'Oro che è un film molto comico girato a Bologna poi sono candidato per quello può cantare anche la canzone meglio di no meglio di no venita a teatro abbiamo anche è giovane ha 60 anni è giovane ma è giovane funziona così in Italia non mi pare tanto giovane ho cominciato da poco sono giovane 60 anni abbondanti fino a 90 c'ha tempo buongiorno a tutti io mi chiamo Mirco Ioni sono candidato come miglioratore per il film Tutti pazzi per Mirco Ioni molto bello molto intenso drammatico perché io so forte proprio nel drammatico perché mi piace piangere mi piace piangere la trama e niente c'è tutte queste donne che sono pazzi per Mirco Ioni non lo so se tratte dal nome dal cognome penso dal nome Mirco poi quando ti conoscono se ne vanno è per quello che sono tante lo lasciano fuggono poi quando lo conoscono fuggono se lo conosci lo eviti se lo conosci lo eviti giusto scossa elettrica come le prese come la 380 premi a go go per vedere quanti attori ma per vederli nella consegna questi Oscar dove bisogna venire quando perché bisogna venire guarda proprio sabato e domenica per esempio a Los Angeles anche più vicino è comodo viene a Los Angeles è comodissimo un po' più vicino tipo Pesaro a Pesaro meglio meglio Pesaro sabato sera è più bella a Pesaro dell'Osaggia più bella a teatro sperimentale accoglienti alle 21.15 sabato sera o domenica pomeriggio alle 17 poi la tournée continua ma questo weekend sabato e domenica la mezzanotte degli Oscar teatro sperimentale di Pesaro c'è sbellicamo da ridere mi raccomando vi aspettiamo vi aspettiamo al completo non mancate venite vi aspettiamo tutti San Costanzo Show al completo il nuovo spettacolo inedito dai 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 che attori che attori puoi fare qualcosa posso fare adesso vediamo magari se mi prendete vediamo sabato e domenica Conosce Firenze? Firenze? No, Firenze non l'ho mai sentita dire. Marotta, te conosci Marotta? È bella molto, Marotta è molto bella. E al teatro invece a Pollo di Mondavio andrà in scena il quinto appuntamento della Rassegna, anche questo è teatro. Lo spettacolo che è previsto per sabato alle ore 21.30 e domenica alle ore 17 omaggia la tradizione che ha reso grande il teatro italiano nel mondo con gli amanti della Rocca, il carro dei comici, compagnia di Pesaro che da anni si prodiga nella promozione della commedia dell'arte all'estero. Lo spettacolo, liberamente ispirato alle vicende di Giulietta Romeo e di Danteschi, Paolo e Francesca, narra le vicissitudini amorose dei giovani che lottano per il trionfo del loro amore. Inoltre sarà possibile ammirare la mostra curata da Piero Livi con immagini e documenti tratti dall'archivio del progetto sanmichelalfiume.it E adesso torniamo a parlare del Carnevale di Fano perché quella di quest'anno è un'edizione da sold out. Per la prima volta nella storia della manifestazione si legge in una nota a metà evento i palchi, le tribune, le postazioni getto e anche le prenotazioni per il veglione ufficiale sono state tutte vendute. Già da domenica scorsa, dicono dall'ente carnevalesca, con il boom di presenze ci siamo resi conto che la città segue con grande interesse l'evento. Il sold out, concludono, ci fa capire che c'è una gran voglia di Carnevale. E prima di chiudere vi ricordo che per noi le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti. Come vedete il numero in sovrimpressione 338 49 68 250 è proprio quello dedicato alle vostre segnalazioni inviando un messaggio quindi gratuito su Whatsapp. E con queste notizie chiudiamo qua il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. Grazie per la visione!